I numeri dei casi positivi comune per comune, non che possano fare la differenza a paesi confinanti, aree omogenee. Il totale in provincia di Lecco è di 871 persone con il coronavirus, un dato già vecchio nel momento stesso in cui lo stiamo dando che non tiene conto delle tante persone a casa in vigilanza sorveglianza da parte dell'ATS perché con sintomi compatibili con il virus. I dati, dicevamo, dall'analisi emerge che la Valsassina e l'Alto Lago sembrano essere le zone meno colpite, non così il capoluogo, i paesi limitrofi, le aree più vicine alla Bergamasca e la Brianza Meratese. Il triste primato spetta alla città più grande, come era immaginabile. A Lecco i casi di coronavirus sono 131, segue Calolzio Corte con 65 e Merate 53. Stupisce il dato della piccola Galbiate dove si contano 30 contagi, 25 a Casatenovo, 21 a Verderio, 20 a Olgiat e Molgora, Oggiono, Calco, Val Madrera, 19 a Cernusco Lombardone, 18 a Robbiate, 17 a Suello e Cesana Brianza, 16 a Missaglia, Mandello, Bellano, Paderno D'Adda, Vercurago. E ancora 15 a Costa Masnaga e a Bellano, 13 a Olginate, 12 a Malgrate, Brivio, Lavalletta, Civate, 10 a Inbersago, 9 a Lomagna e Osnago, 8 ad Airuno. Per gli altri comuni i casi sono inferiori, come ad Abbadia dove si contano per esempio 6 positivi, ma non per questo meno preoccupanti, 7 ad Airuno dove 2 sono stati decessi. La nota positiva complessivamente si inizia a registrare un lieve decremento dei malati, ma è ancora troppo presto per dire che il peggio è passato.